benvenuta benvenuto in questa meditazione useremo il potere del cuore e della mente per rendere sacri qualsiasi sostanza o trattamento medico che tu stia assumendo ma comunque andrà bene anche per evocare la frequenza della guarigione in generale quindi diciamo che sia che tu stia assumendo un trattamento medico durante la pratica stessa come ad esempio la chemioterapia oppure che tu voglia semplicemente trasformare la frequenza dei medicinali che assumi o anche se vuoi solo creare uno spazio di guarigione per te questa pratica ti sarà utile intanto però vorrei iniziare raccontandoti una storia è la storia di una donna che dovendosi sottoporre a un trattamento di chemioterapia decise di giocare con quell'evento e renderlo qualcosa di sacro ad ogni seduta si presentava con un'etichetta su cui era scritto amore puro e chiedeva all'infermiera di applicarla alla busta del trattamento chimico poi semplicemente chiudeva gli occhi e per tutta la durata della seduta immaginava che ciò che stava entrando nel suo sangue fosse puro amore liquido che andava a guarire e a rigenerare il suo corpo e non solo quella donna guarì dalla sua malattia ma la terapia non ebbe alcun effetto collaterale su di lei e naturalmente non ti sto raccontando questa storia perché il tuo ego si attacchi alle aspettative di un effetto miracoloso ma semplicemente per piantare un piccolo seme per ricordare a me e a te che la nostra mente e il nostro cuore quando lavorano insieme sono molto più potenti di ciò che immaginiamo e vorrei invitarti quindi a fare un po' la stessa cosa qualsiasi medicinale tu stia assumendo etichettalo con le parole che più risuonano con la tua guarigione e comincia a trattare quella sostanza come qualcosa di sacro magari ponendola sul tuo altare o in un contenitore speciale aiuta la tua mente a cominciare a percepire quella sostanza come uno strumento magico di guarigione e se la tua mente crede che la sostanza che stai assumendo sia particolarmente tossica prepara magari sul tuo altare anche un'acqua speciale un'acqua da caricare durante la meditazione e da bere proprio per aiutarti a lavare via dal corpo tutte le tossine e tutto questo comunque lo potrai fare in seguito adesso immergiamoci subito nella pratica come sempre trova la posizione più comoda per te chiudi gli occhi e segui semplicemente le parole senza preoccuparti se fai fatica a visualizzare ma focalizzandoti sulle sensazioni e lasciando semplicemente fluire prepariamo lo spazio con tre profondi respiri inspira profondamente trattieni ed espira rilassando inspira trattieni ed espira inspira trattieni ed espira lasciando lasciando fluire adesso porta la tua attenzione al centro del petto respirando in quel punto e lascia che il tuo cuore si apra dolcemente naturalmente un po' come un fiore che allarga i suoi petali ad ogni respiro qui e ora lascia che dal tuo cuore si irradi l'intenzione senti o vedi la medicina che stai assumendo oppure semplicemente immagina una forma che contiene l'intero trattamento medico che stai ricevendo evoca la forma energetica che tiene insieme quella medicina il suo spirito se vuoi quella parte del tutto che si rende materia in essa e infine se non stai lavorando su un trattamento medico evoca semplicemente lo spirito della medicina qualsiasi cosa questo significhi per te ora avendo di fronte a te questa forma energetica questa visione fai risuonare queste parole dal tuo cuore verso quella medicina non c'è bisogno di ripeterle mentalmente a meno che non ti venga naturale io invoco attraverso di te la guarigione l'armonia e la vita io ti accolgo nel mio corpo come amore puro che tutto rigenera attraverso il potere della mia mente e del mio cuore io ti permetto di guarire il mio corpo grazie 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 e respirando nel cuore fai vibrare la frequenza del presente respiro dopo respiro in questo fiore del cuore lasciando che tutto accada come vuole accadere sapendo di non sapere nulla che la vita possa condurci nei luoghi che l'anima ha scelto di attraversare e che il nostro piccolo io possa camminare e che il nostro piccolo io possa camminare imparando raccogliendo qualcosa di vero ad ogni passo adesso accogli nel tuo corpo lo spirito di quella medicina la sua materia le sue particelle e fai che diventino un liquido dorato che scorre nelle tue vene o scintille di vita che curano le cellule di un certo organo lascia che la tua mente ti guidi nella visione nella sensazione in piena presenza per i prossimi 5 minuti grazie a tutti 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 e a tutti grazie 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 a tutti